Innanzitutto la Juventus al momento ha fatto il cammino che doveva fare. Diciamo che il Napoli sta facendo delle cose straordinarie perché ha vinto 12 partite, ne ha pareggiate solamente due. E l'Inter è due punti sotto al Napoli e noi siamo quattro punti al Napoli. Diciamo che noi abbiamo lasciato per strada qualche punto, poi il carcere è legato anche a degli episodi. Il Napoli sta facendo veramente le cose straordinarie, c'è da fare i complimenti per quello che sta facendo, per quello che ha fatto negli ultimi tre anni. E per noi domani è un buon test, soprattutto anche in vista dell'Olimpia Cosse che è la prima partita decisiva della stagione perché dall'in possiamo scappare. Da lì abbiamo l'obbligo di andare avanti agli ottavi di finale Champions.